Peggy 18 Postazione sotto controllo Mi hanno preso! A prua! Skylight attivato! Benvenuti a Camp Irons! Vediamo che sapete fare! Riprendiamola! Approvvigionamento pronto! Occhio agli angoli, cazzo! Griffey va sul serio! Vicino al propano, piano terra! Riprendiamo il drone! Drone acquisito! Bastardo! Hai ucciso Oz! Muoviamoci! Trappola innescata! Bomba individuata! Non devono disinnescare la bomba! Metterà in riga! Metterà in riga! Quattro! 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 Grazie.